laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e pierluigi bianchi cagliesi vi parla oggi 24 febbraio 2022 per il nostro commento del giorno ormai appare sempre più chiaro quello che qualcuno ancora faceva finta di non capire gli stati uniti sembra che vogliano insieme alla gran bretagna veramente la guerra sembra che abbiano deciso a tutti i costi che la guerra debba iniziare e quindi dobbiamo seguire passo passo quello che sta accadendo in questo momento perché effettivamente la situazione sta diventando ogni giorno di più sempre più critica sempre più esplosiva e tutto in questo momento potrebbe accadere con una velocità che difficilmente possiamo immaginare in questo momento i ribelli filorussi del donbass le forze armate l'ucraina continuano a spararsi mentre la russia continua a ripetere che non intende attaccare l'ucraina sebbene è pronta ad aiutare le repubbliche secessioniste del donesk e del lugansk che sono repubbliche secessioniste filorusse e che chiedono ininterrottamente aiuto alla russia e nel villaggio di pionerskoglie si sono avute le prime due vittime civili sono state uccise da cannonate dell'ucraina che hanno sventrato cinque case quindi i combattimenti iniziano a divampare all'interno del territorio dell'ucraina e le milizie di lugas che sostengono d'aver respinto un tentativo di sfondamento dal fronte situato verso la 79esima brigata di paracautisti di chiev che avrebbe cercato di passare il fiume seversky donets ritirandosi con grandi perdite intanto sono arrivati 40 mila civili del donbass che sono stati evacuati in russia e il presidente americano joe biden ha convocato un consiglio di sicurezza nazionale in cui ha riaffermato l'imminenza di un attacco russo in qualsiasi momento quindi dopo aver dato le date del 16 febbraio dopo aver sballato gramorosamente anche la data si continua ossessivamente a ripetere dell'imminenza di un attacco russo di un'imminenza dell'attacco russo in qualsiasi momento e per la cnn ci sarebbero 120 gruppi tattici a livello di battaglione e sono schierati a circa 60 chilometri dal confine con l'ucraina oltre a 35 battaglioni da difesa aerea 500 aerei da caccia 50 bombardieri medio pesanti poi la cbs cita fonti cia secondo cui ai comandanti dell'esercito russo sono già stati consegnati gli ordini di attacco e loro sanno tutto lo preannunciano con un certo anticipo lo dicono in ogni momento loro sanno già al corrente tant'è che comunicano a livello di opinione pubblica di canali di informazione le date esatte no loro sanno esattamente tutto in anticipo poi dice proseguono le esercitazioni e la stampa britannica si unisce al coro in particolare il mirror che ipotizza che i russi potrebbero annientare le forze corazzate dell'ucraina con un'arma convenzionale dagli effetti simili a quelli di una bomba atomica miniaturizzata quindi adesso gli inglesi addirittura parlano della possibilità che i russi possano sganciare una bomba una bomba diciamo convenzionale ma dagli effetti di una bomba atomica quasi che è un po come quella che venne sganciata se vi ricordate dagli stati uniti in afghanistan quella che chiamavano allora la madre di tutte le bombe no che un ordigno praticamente che potrebbe distruggere tutto in un raggio molto circostanziato i 300 metri e sarebbe sganciato secondo le loro informazioni da bombardieri in tubo la ft u 160 e vi ricordate dicevo appunto la bomba termobarica americana questa madre di tutte le bombe che gli stati uniti hanno usato in afghanistan che aveva una forza inferiore ma circa 11 tonnellate di tritolo per un raggio letale 150 metri mentre quello russo secondo la gran bretagna avrebbe lo scopo di demoralizzare le truppe di chiev spezzando nella resistenza poi sempre della gran bretagna si subito a soffiare sul fuoco adesso c'è il premier boris johnson e la ministra degli esteri truss che dice che mosca prepara il maggior conflitto dopo il 1945 e vuole ricreare l'unione sovietica ma vedete conto delle affermazioni folli mosca vuole ricreare l'unione sovietica putin vuole ricreare l'unione sovietica siamo veramente arrivati ormai cari amici alla follia il ministro degli esteri russo sergei lavrov ha evocato diciamo provocatori per spingere la russia a intervenire dice abbiamo informazioni secondo i cui ci sono mercenari dal kosovo dall'albania dalla bosnia zegovina che sono tutti naturalmente filo americani in contrasto con la serba filo russa con serbia filo russa che sarebbero in corso di essere inviati al donbass queste sono voci che s'aggiungono a già segnalazioni sulla presenza tra le file dell'ucraina di mercenari delle compagnie blackwater lancaster ma anche di mercenari della compagnia russa wagner fra i milizi miliziani diciamo del donbass quindi sempre appunto i russi hanno anche menzionato il ritiro di proprie forze con la partenza dalla crimea di 10 bombardieri su coi su 24 e il ritorno nelle loro basi punto sia di carri armati che sono stati caricati su ferrovia che uomini e mezzi che stanno rientrando questo a conferma del fatto che alla russia a questo momento scatenare la terza guerra mondiale non è qualcosa che faccia molto piacere mosca ribadisce ogni momento che non vuole una guerra ma difenderebbe comunque il donbass e si dice pronto a trattare si ascolteranno anche le sue richieste per il segretario difesa degli stati uniti lloyd austin la russia si prepara a combattere la russia si prepara la guerra austin era in visita in questi giorni in polonia dove ha concordato per 6 miliardi di dollari la vendita a varsavia di ben 250 carri armati pesanti i famosi abrams per difendersi dai russi quindi vedete che già alle casse americane questa crisi ha già reso un bel po di miliardi di dollari come avviene in tutte le guerre in cui gli stati uniti entrano diciamo a distanza di sicurezza perché le guerre voi sapete si scatenano all'estero e non si scatenano mai in casa propria ma vedete cari amici che proprio la vice diciamo del presidente biden da herris ha sottolineato appunto i rischi sempre che si evocano di un escalation che può comportare appunto una guerra che inizi dopo che la russia l'avrà scatenata perché la russia è sempre la causa e dice stiamo parlando della possibilità di guerra in europa voglio dire dice la herris prendiamoci davvero un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando è questa è stata la sua ammunizione no cioè dovete vi ci dice la herris prendere atto che la guerra è alle porte la guerra potrebbe iniziare da un momento all'altro e questo soffiare sul fuoco continuamente soffiare sul fuoco continuamente a ezzare gli animi cercare di proprio provocare in tutti i modi con tutti i mezzi la russia può avere a questo punto veramente delle conseguenze assolutamente imprevedibili questa fibrillazione vedete prosegue poi anche sul versante diplomatico ricordiamo che il presidente ucraino serensky ha chiesto c'è stato il fuoco nel donbass ha criticato il fronte occidentale accusandolo di essersi rivelato troppo blando dice ma l'occidente non ci dà tutti gli aiuti che dovremmo avere dovremmo averne molti di più dovremmo creare ancora sanzioni più pesanti nei confronti della russia ma insomma si fa troppo poco contro la russia e quindi si continua vedete sempre di più a mantenere questa linea in cui vladimir putin ha accusato proprio in questi giorni il governo ucraino di fomentare l'escalation secondo la nota dell'eliseo che è arrivata proprio da parigi due leader macron e putine avrebbero comunque concordato di tenere al più presto una riunione del gruppo di contatto trilaterale per arrivare al cessate al fuoco in ucraina almeno orientale la parte sua la russia risponde ancora dicendo che bisognerebbe cercare di fare molto attenti in questo momento anche a qualsiasi tipo di azione perché appunto possibilità che qualcosa possa sfuggire di mano diventa sempre più probabile il ministro degli esseri russo lavrov dovrebbe incontrare al giorno il segretario di stato americano tony blinken nel quale ha anche aperto la possibilità di un summit tra biden e putine ma un blinken che sempre in questi giorni è tornato comunque a sostenere che un'invasione russa ormai risulta fortemente probabile ma come si possono fare cari amici trattative diplomatiche o cercare diciamo di dimostrare l'opinione pubblica di volere non scatenare una guerra quando la si la si cerca in tutti i modi la si cerca di provocare e si si cercano tutti tutti gli argomenti possibili anche a livello mondiale di informazione assolutamente unilaterale per dimostrare che la russia non ne vuole sapere di trattare ma vuole soltanto scatenare un finimondo è sempre un blinken vedete che ieri è tornato a sostenere appunto che un'invasione russa risulterebbe al momento fortemente probabile e poi dicevo continuamente si aggiunge l'eco di boris johnson dagli stati uniti in una dichiarazione qui dice ad esempio ho paura di dire che il piano che stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe davvero essere la più grande guerra in europa dal 1945 questo l'ho detto boris johnson attenzione cari amici perché quando le forze dei poteri mondialisti arrivano al punto di evocare qualche cosa e cito le parole potrebbe accadere appunto qualcosa l'europa potrebbe vedere qualcosa che potrebbe essere la più grande guerra in europa dal 1945 questo significa che esiste realmente una volontà di portare il mondo e l'europa per prima sulla diciamo l'orlo di un cratere che potrebbe avere conseguenze inimmaginabili questa cari amici è la situazione di fronte a questo noi confermiamo quello che abbiamo già tante volte appunto sottolineato che cioè che se le forze dei poteri mondialisti in questo momento spingono e fomentano la guerra ad ogni costo vuol dire che evidentemente tutto il loro progetto di costruire questo cosiddetto nuovo ordine mondiale di schiavizzare l'umanità di creare un regime tirannico totalitario che dominasse il mondo sta franando come noi del resto vediamo ogni giorno il gigante dai piedi di argilla comincia a segretolarsi a sfasciarsi crollare inesorabilmente di fronte a noi in un crollo progressivo che trascinerà ogni cosa e che accelererà comunque sempre più il passaggio verso un conflitto che il demonio sa essere l'ultima possibilità per cercare e cercare perché non ci riuscirà di distruggere il genere umano e distruggere l'opera della creazione di dio ma siccome non è appunto né tony blinken né assolutamente qualche altro personaggio o la harris che determineranno le sorti del mondo ma sarà appunto nostro signore gesù cristo che guida gli avvenimenti che tutto conduce attraverso la sua provvidenza verso un esito totalmente diverso da quello che il demonio immagina noi confidiamo che amici che anche in questo duro passaggio che probabilmente ci attenda ci attende il signore guiderà tutto per i suoi esiti per il bene di tutti per il trionfo del cuore immacolato di maria ed è in questa fiducia che noi riponiamo nel sacro cuore di gesù e nel cuore immacolato di maria che io auguro tutti voi cari amici una buona giornata laudetur jesus christus immacolato di maria che io auguro tutti i nostri spettatori e Grazie a tutti.